Dal cantiere al Consiglio Comunale. C'era aria d'attesa stamani per la ripresa del taglio dei pini nell'ambito del progetto di recupero del circolo canottieri della soprintendenza. Intanto in Consiglio Comunale, esponente della soprintendenza, dirigente del Comune, assessori al Verde e vice sindaco Santilli hanno partecipato alla seduta, mentre le associazioni ambientaliste, in particolare Italia Nostra e Archeoclub, hanno scritto al Ministro della Cultura. A sorpresa, ma non troppo, il PD e le liste civiche del centro-sinistra avevano presentato un ordine del giorno nel quale si chiedeva alla Giunta e al Sindaco di non permettere il taglio degli alberi nel periodo tra marzo e luglio, perché, come dice una direttiva europea, si deve lasciare spazio all'andidificazione degli uccelli. L'ordine del giorno è stato bocciato dal Consiglio. Fatto sta, dunque, che il dirigente del Comune ha confermato l'approvazione alla richiesta di deroga della soprintendenza e quest'ultima vuole andare avanti, anche parlando di alberi potenzialmente pericolosi. Amareggiati gli ambientalisti, Simona Barba, Italia Nostra. La deroga l'ha data il Comune sul suo regolamento comunale che prevede delle deroghe. Però noi sappiamo che i regolamenti comunali sono comunque sottoposti, naturalmente, alle leggi nazionali. E' la stessa legge nazionale, figlia di una direttiva europea. Non c'è traccia di richiesta di deroghe. La legge dice chiaramente che non sono permessi tra marzo e luglio gli abbattimenti e le potature, ricordiamolo, proprio per permettere la riproduzione agli uccellini, alla vifauna, che ricordiamo è in serio pericolo. Annalisa Petrucciani, con Alpa Chieti Pescara, raccoglie poi le lamentere di alcuni residenti di Viale Regina Elena Pescara, dove sono iniziate le potature. Purtroppo il problema è sempre quello che questo non è il periodo adatto. Da marzo a luglio ci sono le identificazioni ed è proprio vietato fare queste potature, abbattimenti. Noi non capiamo perché adesso si stiano accanendo in questo modo un po' in tutta la città.